Ciao ragazzi, ciao! Buon venerdì da Stefi, buon fine settimana, buon weekend a tutti voi. Allora ragazzi, le previsioni su ruota le avete? È da un po' che non facevo 10 all'8 serale e quindi oggi ho pensato di dedicarmi anche a questo. Allora ragazzi, figura 5 e questa è la mia previsione a partire da questa sera. Ed è un po' come vi ho detto poc'anzi che non mi dedicavo al 10 all'8 serale, ho pensato di preparare questa previsione. Sono 4 numeri, chi vuole, ovviamente chi vuole, è dedicato a chi piace anche il 10 all'8 serale, chi prova anche a giocare al 10 all'8 serale. Questa previsione è per tutti coloro che amano anche il 10 all'8 serale. Ragazzi, da questa sera si comincia a giocare questa previsione. Come sempre, un grande in bocca al lupo a tutti voi. Chi gioca alle mie previsioni, ritorno a dirlo, lo ribadisco, anche quelle del 10 all'8 serale ovviamente. Chi gioca alle mie previsioni, mandatemi gli scontrini in caso di vincita al numero 328-1285-780. Non finirò mai di dirvelo. Mi raccomando, chi gioca alle mie previsioni, mandatemi gli scontrini al numero Whatsapp. Allora, che dire, un grande in bocca al lupo a tutti voi. Buona fortuna al gruppo abbonati. E in caso positivo, ci risentiamo questa sera dopo l'estrazione. Ragazzi, auguri a tutti quanti. Un bacione come sempre. E a presto. Ciao.